Noi siamo all'estivata di Rhodes, siamo sempre freddi di Ghoulamask che è il cantore di Ghoulamask. Abbiamo fatto il concerto principale sulla Gran Senata il terzo giorno dell'estivata. In un gruppo di Ghoulamask che suono da 15 anni, abbiamo fatto un concerto più di 5 cd all'attivato e nel 2014 abbiamo fatto il 3 album Rabbia e poesia. Canto avete accaduto da 15 anni? Avete accaduto per rabbia o per poesia? Ero per rabbia perché abbiamo montato quel gruppo Ghoulamask che erano tutti i giorni dal costato del bar, della taberna a parlare delle cose politiche, sociali e tutto. E un giorno abbiamo detto che abbiamo fatto tutto ciò che parliamo qui con i amici nel bar, abbiamo parlato, abbiamo cantato su l'impun. È per accordo che abbiamo cominciato per l'Arabia perché è l'Arabia che ci ha fatto reaccionare. In questi 15 anni il panorama politico francese è cambiato. E quindi abbiamo detto che è arrivato in Italia, dal sud della Francia, l'Ecto Vittorio che è dilagata dal fronte nazionale. Come la si fai a incanalare la rabbia in maniera che non resta un rabbio distruttivo come le capita forse? Ecco è sicuro che non è facile da conseguire, ma il nostro rabbio vuole essere positivo, è un rabbio che fa avanzare e non reculari. Se abbiamo usato il stesso funzionamento che l'extrame direttore, sarebbe più buoni, sarebbe come le stesse. Quindi, ci si fai affrontare quella merda, io direi una merda, perché non è possibile che nel 2014 ci fosse un pensamento, come era il principio delle guerre mondiali e tutto quello. Quindi, il nostro rabbio deve seguire il ruo della politica positiva. Perché, prima, tutti quelli che votano il fronte nazionale, avanti votano il fronte nazionale. Quindi, c'è qualcosa che faccia il funzionamento sociale della Francia, dal sud della Francia. Quindi, bisogna pensare, perché, e come fare per ritornare. E spazio per la Bologna. Non, la Bologna non, bisogna essere degustata. E io penso che per un canale che tu abbia una maniera positiva, la musica sia una buona maniera di comunicazione. Oh, spero che continuiamo a fare dei concerti con la masca. E perché la rabbia, il militantismo, mescla anche la festa con una forte vibrazione più positiva. E perché la gente, come, che sorti del cuore, del cuore, lo che hai, che fa che è male, che è presa tutto il cuore. E, dunque, fare la festa permet di liberare. Ma, l'olende matti, non credo che la luce continua. E, tonnoi, tu sono sui da palca dell'estivata, insomma, insomma, appre, le rameoneur di menire, che fanno uscire, fanno l'angio fai di concerto per voi, e coloro, l'un gruppo che porto avanti insomma la musica, porto avanti la lotta, insomma. Quale è la lotta che aveva in comune e qual è la musica che aveva in comune? La musica, a cui è mai facile di rispondere, perché siamo di generazioni mai di rock'n'roll, di punk, che di musica tradizionale. Perché noi, altri, queste costate delle lingue doc, quando io ero petite, non avevo mai di musica tradizionale. Non c'è un po' di musica che aveva in comune, non avevo mai di musica tradizionale. Le rameoneur di menire cantano in bretto, in bretto, in bretto, e noi altri, la lingua d'Ossia, in occita. Duncos, è la cosa che non fa che siamo due gruppi paralleli. è la musica tradizionale. È la musica rock e la difesa della lingua della cultura. Da costate della lotta, noi siamo vitti che i rameoneur di menire fanno bene la lotta per l'ecologia. E come voi avete fatto un disco che si mandavano guardare la terra. Quindi, c'è anche un discorso politico che porta avanti sempre? E come ti dicevo tuttavo, Gula Masca funziona per la politica. E quando si dicevole guardare la terra, non per guardare la terra occita, non per guardare la planetà. Non per guardare la terra occita, non per guardare la terra occita, non per guardare la terra occita. E l'ecologia è normale perché, se ne ha mai più di natura, ne ha mai più di mangiare, di bere e tutto ciò, che cosa va passare? La gente va morire e non per l'argento, non per l'euro che sarà mai, che non ha mai di profit. Voi parlate in francese, ma parlate soprattutto in L'Occitane. L'Occitane, in quel momento, l'unico o ha diviso? Non ho capito bene la questione, ma lo che posso dire è che l'Occitane è una presa politica per Gula Masca. Perché noi altri, nel villaggio, non ne ha mai di us che parla di L'Occitane. Quindi, attraverso la musica, possiamo fare che i l'Occitane, che è un pass del costato dell'Occitane, che viene dal nostro costato dell'Occitane, che viene dal nostro costato dell'Occitane, che viene dal nostro costato dell'Occitane. Poi tornare, attraverso questa lingua che gli piace di l'apprendere. E questo è il nostro lavoro, noi abbiamo fatto fare passare la cultura, alle persone che non la conoscono. Perché non è facile di parlare la lingua. Perché io parlo un po' l'Occitane. ma non è facile di parlare l'Occitane. E questo è quello che si può fare alla musica occitana? Oh, la musica occitana è un atto politico, è un atto militantismo. Perché la gente come usate a Utrezza, che faceva un gruppo di giubbe per il giubbe o per i bielli, di fare, di cantare in Occitane, è una presa di rischio grande. Perché non possono passare dappertutto. Perché la gente fa po'. Quando cantano in Occitane, fa po'. De che cosa vuole? Vuole l'Occitane? E come dice lui Sergi del Delfino, l'Occitane è basta. Il Delfino Il Delfino